E Pietro Mennea ora sembra più consapevole della responsabilità di questa prova. E in questi 20 secondi è racchiusa appunto la risposta a speranza e timore coltivate in tanti anni di durissimi sacrifici. È un discorso che vale per Mennea ma che probabilmente vale per tutti gli altri concorrenti. Ed eccoci alla prova più attesa di questa giornata, perlomeno per quanto ci riguarda. Mennea in ottava corsia. Ecco, buono l'abbio. Parte più svelto Welch nei confronti di Mennea che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta a lotta, spalla a spalla tra Welch e Mennea. È al comando attualmente l'inglese, poi ci distendente e corri. Mennea cerca di recuperare, cerca di recuperare, recupera, 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 recupera. Ha vinto, ha vinto! Oh, straordinaria impresa di Mennea che sembrava battuto sui 100 metri e recuperato prodigiosamente in una gara vibrante. Straordinaria, stupenda gara con un tempo anche di grande valore 20 e 19. Ed ecco, vediamo, sollevare in braccio tradizionalmente in segno di giubilo da parte dell'atleta Barlettano. e sembra giungerci qui a tanti chilometri, a migliaia di chilometri di distanza, l'Eco, l'esplosione di gioia che avrà accompagnato sicuramente questa stupenda, straordinaria impresa del più grande atleta, forse dell'atletica azzurra.